60 anni di matrimonio sono un bel traguardo. Una bella e arzilla coppia tarantina, Peppino Latanza, 81 anni, e Filomena De Gennaro, 78 anni, ha festeggiato le nozze di diamante. Il rito è stato celebrato da Don Salvatore nella parrocchia San Massimiliano Colbe, nel quartiere Paolo VI. Hanno partecipato alla festa le persone più care, parenti e amici. Quest'amore, che da sei decenni accompagna la coppia, è frutto di una vita trascorsa intensamente, con tutti i suoi risvolti. Le nozze di diamante prendono il nome della pietra preziosa per eccellenza, che simboleggia un rapporto solido e meraviglioso, insomma quello che tutti vorrebbero. Il diamante rappresenta anche la purezza e la fiamma dell'amore, ancora presente dopo tanti anni in questa coppia. Il segreto, ecco svelato dagli stessi protagonisti. Felice e contento. Tanti anni avete? Quattro volte vende uno. Io 78 ne faccio agosto. Qual è il segreto per arrivare a 60 anni? A farli dire e basta, e zitti. C'erano non la finiscono. Sono 65 che stiamo assieme. Peppino e Filomena hanno ricordato quanto l'amore sia rimasto sempre lo stesso, nonostante tutti questi anni trascorsi insieme. Mi fa andare sempre al campo, a tifare il taranto. Anche a lei le piace. Mi ha fatto diventare anche a me tifosa. Tutti insieme a me che mi danno la morte. Tutti quanti figli avete? Quattro. Tre maschi e una femmina. Quante ne puoi? Nove, no? Sono bisnonna. 60 anni di vita e tanti aguri da parte di Antenna Sud a Peppino e Filomena.